Abbiamo le immagini catturate oggi sul lungomare di Catania dal nostro Salvo Saia, era lì per un servizio del telegiornale. Allora vediamo queste immagini, le possiamo commentare qui, se sei d'accordo, le commentiamo insieme appunto anche a Danilo Pasqualino, insomma il Novara che ci godeva il sole. Sì, oggi è stata una giornata praticamente estiva, vediamo che i giocatori del Novara, che ovviamente era in un albergo del lungomare di Catania, hanno approfittato per dare un'occhiata un po' a quello che è il clima, ma soprattutto il lungomare della nostra città. Si sono goduti le nostre bellezze. Sembra ovviamente un clima assolutamente disteso, così dovrebbe essere il calcio secondo me. Bene hanno fatto i giocatori del Novara godersi il sole e il mare di Catania, bene hanno fatto i tifosi del Catania, che sicuramente non avranno non potuto vedere i giocatori del Novara, ad avere un atteggiamento disteso e tranquillo. Diciamo che se fossero stati i giocatori del Milan, della Juve o dell'Inter probabilmente sarebbero stati assaliti per fotografie e autografici. Questa è un'immagine che fa bene al calcio e che fa sicuramente piacere. Lì c'è Mascara che faceva un po', come vi ho detto io per caso passavo di lì, ho visto proprio questo nugolo, questo trappello di giocatori del Novara, Mascara che faceva un po' da Cicerone, Mascara che vi posso garantire sente tantissimo questa partita. Grazie a tutti.